un cappotto che può arrivare fino a 50 mila euro che però potrebbe essere illegale te la svelo alla fine del video perché oggi vediamo insieme le 5 lane più pregiate al mondo al primo posto troviamo la lana merino 16 micron di diametro probabilmente è la lana con il miglior rapporto qualità prezzo al quarto posto troviamo la lana di alpaca 18 micron di diametro calcolate che un animale produce in media all'anno tra i 2,5 e 4,5 kg di prodotto gradino più basso del podio troviamo il cashmere con un diametro di 14 15 micron quindi 3 4 volte più sottile di un capello umano e la lana lussuosa più commerciale al mondo al secondo posto troviamo la vicuna con un diametro di 12 micron un capo realizzato con questo filato può arrivare dai 25 mila fino ai 50 mila euro la rarità di questo prodotto è data dal suo animale che riesce a produrre per singolo esemplare circa 250 grammi l'anno e al primo posto troviamo la lana di shahatush la più rara e la più pregiata al mondo diventata illegale però dal 1979 perché per raccogliere la lana è necessario uccidere l'animale inutile dire che purtroppo sul mercato nero a volte si riesce a trovare questo prodotto e tu lo conoscevi questo filato e la sua incredibile storia fammelo sapere nei commenti